Giovanna con camera Amore, vai da questa parte Dopo bisogna tirare fuori questa mozzaca Mozzaca, mozzaca Allora, dove il nostro rosso pomodoro? Un po' avanti Poco 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 Amore, mi sembra Mi sembra qui come l'estate Sì, quasi quasi Dove è come maggio? Quasi come già l'estate Sì, già quasi tutto come stagione Praticamente sì Sono tutti aperti D'altronde l'ho detto di fatto Sono tutti aperti Vuol dire che c'è da lavorare Se no non stavano mica aperti No, io vorrei dire come Tu senti come tutti Certo In summer Stasera sarà pieno di gente lì al bar Assolutamente Lì è trovo su pomodoro Assolutamente Mi sembra qui sarà tutto pieno Eh sì Stasera sarà tutto pieno Ecco amore Prevedo di sì Non mi piaccia Ma ti dico la verità Poi vieni Che è strano Che non regalano Che non regalano Ce danno bei prestiti No, lì a San Marino Ti dico la verità Facevano bei prestiti buoni Se non fosse che ormai Ne ho già due Basta Eh sì No, la prendevo Ti dico la verità Tu ce l'hai già? Sì, ma ce l'ho già Basta Sono troppi Non so più dove metterli Basta Uno devo venderlo Eccola Sala giochi Oh, non è questa sala giochi Dove siamo stati No, era quella là Dove c'era A posto Andiamo in centro Guarda che Guarda che questa pasqua riposa Eh sì Riposare, riposare Eh sì Gli dino a te com'è Troppo caloria Per questa pasqua Eh sì Piaggine Piaggine Eh sì Eh sì Eh sì Eh sì Eh sì Mamma mia Ciao a tutti Ciao a tutti Buon giorno Buon giorno Quasi quasi Summer Quasi quasi Ma che quasi 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 Summer Absolutely Summer Superman Summer 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 andiamo ecco il rosso pomodoro andiamo a vedere e guarda questo albergo non è aperto cimi doveva aprire assolutamente non mi ricordo più e non c'erano i turisti chissà quando i soldi noi perdiamo per questo mamma mia ma ti ne hanno persi l'ora perché avevano cominciato a fare i lavori poi hanno dovuto smettere loro ne hanno persi non hanno fatto i lavori per niente non ne hanno neanche persi eh sì andiamo adesso come va dai traversiamo perfetto ho capito che ti riesci a leggere tutto ok 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 prendiamolo ne pizzeria verace è sempre una gran pizzeria la migliore di Rimini la nostra è una pizza mondiale ecco vedi qui sono tutte le piste che hanno vinto i concorsi 2000 2002 2003 2005 vincitori e guarda burratina burratina andiamoci vediamo bounty Rimini che cazzo fanno così torniamo allora andiamo dall'altra parte perché poi è troppo traffico andiamo solo come andiamo dai troppo 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 poco si mi sono dimenticata cosa? che hanno chiuso questa parte ma perché ci hanno chiuso? bisogna riparare riparare che cazzo sempre chiudono tutto che palle eh guarda già mai o no? eh sì venusione venusione guarda qui tantissima gente e muore già continental bene non non che cosa si 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.